La libertà in questo caso di costruire una stanza in più, due stanze in più nella loro abitazione, rendere la casa più bella, al tempo stesso facendo anche il bene collettivo, che è quello di rilanciare un settore, quello dell'edilizia. Terzo, per ammodernare il nostro Veneto, buttare giù i vecchi capannoni, costruirli nuovi, più belli e con innovazioni tecnologiche significative, soprattutto dal punto di vista dell'energia e del risparmio energetico. Con le folti alternative. La Lega Nord è scettica, lei come risponde? Ma è scettica su cosa? Io non ho sentito tutto questo scetticismo. La Lega ha votato il progetto in giunta e ha già questa preoccupazione per cui sarebbero case per gli immigrati. Ma che c'entra? Se io do da costruire due stanze in più a lei o a chiunque ci ascolta, c'entrano gli immigrati. Forse non avevano ancora letto il provvedimento e hanno voluto così. direla loro. L'idea, devo dire, come sempre, è di Silvio Berlusconi. Chi l'ha elaborata insieme sono stati Renzo Marangon con i nostri uffici, io e Niccolò Ghedini. Questa è la genesi. Però merito al merito l'ideatore, l'idea, l'idea è venuta là. Lei l'ha definita la via Veneta al superamento della crisi? No, non so. È un'apertura in più al superamento della crisi. servono tante cose in più. Serve soprattutto un ordine mondiale, dai provvedimenti che prende Obama a quelli della Banca Centrale che francamente esono dalle mie competenze. Il Veneto può fare qualcosa. Ecco, l'ha fatto. Non l'ha fatto da oggi, ma oggi ha aggiunto una cosa importante e anche, a mio avviso, un bel esempio per le regioni che lo vogliono seguire. Il Veneto è sempre a pretista? Spesso. Questa volta, primo, spesso e quando arriviamo a secondi a me dispiace un pochino. Però capita qualche volta che si arrivi a secondi, qualche volta a terzo, qualche volta addirittura a quarti, siamo sinceri. Però questa volta siamo ampiamente davanti agli altri. Si rivolge a tutti i cittadini. Chiaro che per chi abita in un condominio è più difficile che per chi abita in una casetta in campagna. Chiaro che per chi non ha capannoni la legge non ha interesse, però si rivolge a una buona parte della cittadinanza veneta. E poi ho in mente anche per tanti altri, precisamente per 40.000 persone che in questo momento pagano un affitto per abitare una casa dell'Ater di trasformarli con una semplice firma da affittuare in proprietari, titolari dell'abitazione in cui vivono. Come vede, quindi, non ci si ferma. 40.000 neoproprietari di casa in una regione come il Veneto non sono per davvero pochi. Le banche devono rispondere bene, però, perché non mi bastano più le dichiarazioni di disponibilità. Noi stiamo chiedendo una dimostrazione concreta. Le banche devono fare la loro parte.